Scorre sì, scorre. Come l'avete notato? Perché in realtà avete anche voi una passione per la corsa. Tutti e tre i colleghi abbiamo una passione per l'atletica. Un giorno durante un turno di servizio il collega Leone notò questi due ragazzi che correvano di gran lena. Decidemmo di testarli sulla base di un chilometro. I loro tempi erano incredibilmente... Decisamente migliori dei vostri, diciamo. Sicuramente, per starli dietro serve un motorino, vi assicuro. Abdule è arrivato a Bari dalla Somalia, Izza dall'Eritrea con niente se non il talento nelle gambe per il mezzofondo, tanto che Abdule aveva già partecipato ai mondiali della Corea. L'amicizia con tre poliziotti in servizio nel centro di accoglienza di Bari che hanno deciso di donar loro tute e scarpe per allenarsi e li hanno portati alle prime gare in Italia e una di quelle storie in cui la solidarietà non resta solo una parola vuota. È per questo che i Lions hanno voluto premiare il sovrintendente Francesco Leone e gli assistenti Francesco Martino e Donato Venturo, una cerimonia alla quale hanno partecipato prefetto, questore comandante dei carabinieri e rappresentanti di comune e provincia. Ora Abdule vive e si allena a Todi, Izza in Svizzera. Il sogno è farli partecipare ai prossimi mondiali. Parteciperà con i colori della sua nazione. Allenato in Italia. Allenato, questa volta allenato, perché la prima volta ha partecipato con un allenamento quasi nullo.